Migliaia di mascherine e altrettanto di capi di abbigliamento contraffatti sono stati sequestrati in due distinte operazioni portate a termine oggi dalla Guardia di Finanza di La Spezia e di Prato. Due indagini che hanno confermato come l'area pratese sia una delle capitali del falso. La prima inchiesta, quella ligure, ha messo nei guai 14 persone, 10 italiani e 4 cinesi, accusati di contraffazione e ricettazione. Il sodalizio, secondo quanto accertato dagli investigatori, aveva messo in piedi una rete di vendita di abbigliamento taroccato in negozi al dettaglio e online. Più di 150.000 i capi sequestrati nel corso delle perquisizioni compiute a Livorno, Bologna, Rimini, Napoli, Milano, Ancona, Campobasso, Salerno, tutti gli articoli venivano cuciti a Prato e poi inviati in mezza Italia. La seconda indagine ha invece consentito di scoprire una centrale del falso a livello industriale. La Guardia di Finanza, indagando sugli ultimi sequestri di mascherine con griff false, è arrivata a un'azienda con sede a Carmignano. Il controllo ha portato al ritrovamento di 21.000 mascherine, 5.000 capi di abbigliamento già confezionati, 115.000 loghi già stampati, quasi 20 chilometri di carta transfer con marchi da applicare a 30.000 magliette. Il profitto, se la merce fosse finita sul mercato, sarebbe ammontato a circa un milione di euro. All'avanguardia, l'attrezzatura di cui l'azienda si era dotata, 5 stampanti industriali e 2 plotter azionati tramite computer, nei quali erano stati memorizzati marchi e disegni contraffatti. Il logo veniva prima stampato su carta, poi riprodotto e successivamente impresso sul tessuto. Il titolare, un cinese di 40 anni domiciliato a Carmignano, è stato denunciato per contraffazione e sfruttamento della manodopera clandestina dopo che i finanzieri hanno sorpreso, intenti al lavoro, quattro suoi connazionali clandestini.